se mi compare ben volentieri ragazzi sta per partire è già partita ok ci siamo perfetto ciao a tutti allora partiamo con una breve breve presentazione di rito allora prima gli altri Massi Massi presentaci il tuo canale allora ciao a tutti il mio canale si chiama Navigare sui sogni io sono Massi e niente mi piace raccontare le sensazioni che provo quando leggo qualcosa di bello e quindi naturalmente parlo di fumetti più che altro ma a volte mi capita anche di parlare di libri o magari di qualche film che ho visto e mi è piaciuto ma più che altro fumetti soprattutto fumetti ok chi altro vuole presentarsi io ok ciao a tutti ragazzi io sono Ali del canale Alienology anche io parlo prettamente di fumetti di roba nerd in generale ma sì in generale di fumetti con video recensioni video opinioni e quant'altro ogni tanto faccio qualche live però diciamo che è tutto incentrato sul mondo nerd ok vado io adesso buongiorno a tutti ciao Domenico il mio canale è la di Moradiala non sono un appassionato di fumetti sono appassionato di manga non sono un veterano di questo mondo però insomma da tre anni a questa parte mi sto avvicinando a questa a questa arte incredibile che mi prende ogni volta sempre di più sono veramente contento di essere qui con voi e parlare insomma con tutti quanti benvenuto benvenuto anche tu benvenuto Massi benvenuto Ali benvenuto Domenico ora tocca ad Andrea sì poi ci sono io che sono Andrea di Canno TV sbarcato su YouTube soltanto da tre mesi circa anche io mi incentro principalmente sui fumetti anche se a volte tocco il cinema e qualche altro argomento limitrofo ok vabbè finisco io sono Sergio di Sergio Vinci TV il mio canale adesso l'ho preso un po' più sul serio diciamo era partito come un canale che voleva recensire la mia più grande passione ovvero le v-metal io sono anche un musicista poi ho cominciato coi fumetti ho visto che alla fine avevano più visualizzazioni in fumetti rispetto alle recensioni musicali e quindi adesso tratto al 99% fumetti ogni tanto magari faccio un video musicale ma che magari si ricollega a qualche fumetto che ho letto però diciamo 99,9% anche io parlo di fumetti perché vedo che comunque bene o male stanno avendo un certo riscontro sono ripartito da un mesetto circa il mio canale è rimasto oscurato per tre mesi perché intendevo proprio non recensire più non tenerlo in vita per vari impegni e varie cose però adesso è un mesetto che è tornato quindi devo diciamo rifidelizzarmi quel pubblico che mi seguiva e devo possibilmente farmi conoscere da più persone ecco allora grazie ma oddio se volete farvi del male ogni tanto sì allora dai comincio io con una riflessione volevamo tutti noi diciamo siamo in contatto oramai è facile rimanere in contatto con i vari smartphone social whatsapp e via dicendo questo qua lo dico ai nostri ai nostri lettori ascoltatori utenti insomma e facevamo una riflessione visto che ci sono stati questi stravolgimenti stravolgimenti no questi cambiamenti nel mondo bonelli ovvero gli aumenti gli aumenti che hanno diciamo dato il via a varie discussioni che poi sono andate fuori dal discorso prettamente aumento dei prezzi da lì è partita tutta una discussione anche sulla qualità del fumetto del perché io devo pagare di più un fumetto e via dicendo quindi secondo me l'aumento che alla fine tutti quanti oramai l'abbiamo ben metabolizzato ha dato via a tutta una serie di riflessioni ovvero sulla sull'abbonelli editore no perché in questo caso l'abbonelli anche se gli aumenti non è che li fa solo l'abbonelli vediamo che anche panini di recente ha fatto aumenti più e anche altri anche altri editori però da questi discorsi noi ci siamo fatti anche una domanda perché girando un po' su youtube vediamo che ci sono tanti nostri tra virgolette colleghi che recensiscono tanti manga o prettamente manga e magari diciamo non scelgono proprio di non recensire Bonelli o lo fanno in maniera del tutto marginale a questo aggiungo anche una cosa che mi ha dato uno spunto di riflessione che spesse volte ne ho parlato anche con con Ali nella chiacchierata che avevamo fatto circa un mesetto fa spesse volte quando si parla anche in fumetteria e via dicendo di Bonelli vieni un po' trattato come un lettore obsoleto ecco un lettore che è rimasto ancorata ad un concetto di fumetto un pochino datato e anche a volte ho assistito a delle discussioni o magari delle risposte del tipo ma leggi ancora Bonelli ma guarda che c'è di molto meglio e via dicendo quindi allora cosa cosa ho fatto io a memoria sono andato a rivedere alcune mie cose che avevo in casa in passato leggevo qualche manga ad esempio a parte le solite letture Marvel e DC che hanno avuto un breve passaggio nella mia vita e comunque l'altro giorno in fumetteria volevo un fumetto non necessariamente un manga volevo un fumetto però un fumetto forte e mi è stato consigliato questo manga che oramai ha qualche annetto si chiama Killing Morph ho recensito sul mio canale per adesso ha fatto solo una quarantina di visite la recensione però questo non importa l'avevo messo in preventivo è una novità assoluta sul mio canale ma comunque il fumetto è in giro da due o tre anni quindi non è che puoi pretendere più di tanto e devo dire che mi è piaciuto cioè è un manga che ha un formato simile al Diabolic un pochino più grande ha più pagine circa duecento pagine per scusate l'avevo mostrato al contrario eccolo qua vabbè con i manga ancora devo prendere lo sapevi lo sapevi che si leggeva al contrario Sergio non è che hai iniziato no 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 semplicemente l'ho mostrato con la copertina al contrario eccola qua ok 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 no devo dire che l'ho trovato bello un bell'horror splatter con una bella trama di fondo e via dicendo quindi la domanda e poi passo la palla a voi passo la palla a voi è come se la sta passando la Bonelli rispetto ai manga è vero che i manga adesso tirano di più e che la Bonelli è obsoleta e non so qualcuno può approfondire di più questo discorso cioè parliamo in sostanza di Bonelli o Bonellidi per esempio Dago piuttosto che Samu e Stern sono sempre Bonellidi hanno il classico formato della Bonelli piuttosto che The Walking Dead piuttosto che Outcast no quindi l'argomento è chi diciamo non legge Bonelli e si riversa su altri universi soprattutto quello manga come mai questa cosa che cosa dà in più secondo voi il manga cosa dà in meno in che cosa si differenzia dal Bonelli o dal Bonellide diciamo quello in classico formato Bonelli allora io dico una cosa soltanto Sergio secondo me il problema non è il formato Bonellide ma il problema è la Bonelli perché parecchi fumetti americani e qua mi può aiutare anche Andrea che ha fatto una recensione ultimamente di Superman il problema è la Bonelli perché anche The Walking Dead esce in formato Bonellide però le vendite sono tutta altra cosa rispetto a Bonelli quindi secondo me il problema è proprio questa casa editoriale che non riesce ad evolversi è rimasta secondo me troppo indietro e questi aumenti che stanno arrivando un attimo spesso e volentieri secondo me logorano ancora di più il rapporto tra il giovane che si appresta a leggere qualcosa e appunto la casa editoriale il giovane oggi va al manga e qui concludo perché il manga abbiamo modo di vedere ha più generi a disposizione ha molto più appeal io qui ho portato un esempio leggo manga guardate qui è un piccolissimo esempio se voi avete davanti ai vostri occhi questo albo no? cosa fate? la curiosità non vi prende e leggere appunto guardate qui cioè parlo della copertina ma parlo di tutto il manga io sono pro manga assolutamente su questo non ci sono dubbi ma se i pro mangia voglio aggiungere una cosa secondo me un'altra differenza molto importante è la serialità i fumetti bonelli hanno una serialità infinita quindi sono protratti fondamentalmente all'infinito non viviamo più in dei tempi favorevoli a questo stile di fumetto mentre invece i manga sono generalmente fumetti che dopo un certo tot si iniziano e finiscono si iniziano e finiscono esatto quindi contando anche i tempi molto più frenetici potremmo dire della vita oggi come oggi i giovani che comunque sono meno predisposti alla lettura non vogliono impegnarsi si si vogliono impegnare seguendo un fumetto che fondamentalmente non finirà mai mentre invece il manga magari dura 10 20 numeri non lo so in media ma comunque sai che prima o poi finirà e questa 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 fine già prestabilita aiuta anche economicamente uno si fa due conti sa che spenderà un tot di soldi per comprarsi quella determinata serie ma almeno sa che non dovrà continuare all'infinito comprando tex di land dog piuttosto che qualunque altro buon elide sì parliamoci chiaro no una cosa alla volta l'ultima cosa e poi chiudo alla fine parliamoci chiaro quando una testata arriva a 700 uscite io penso che le idee iniziano un attimino a venire meno è appunto quello che sta succedendo con Zagor che sta facendo ritornare alcuni personaggi usciti diverso tempo fa secondo me questo è il segnale importante che le idee iniziano veramente a scarseggiare secondo me per la Sergio Bonero l'ultimo Zagor l'ultimo Zagor ha portato in vita un personaggio di 50 anni fa circa questo secondo me è sbagliatissimo vuol dire che non ci sono idee innovative secondo me poi ognuno la penso come vuole se posso aggiungere una cosa tutte valide le cose che ho sentito fino ad ora c'è anche un altro aspetto secondo me molto importante e cioè che i manga non dimentichiamo che spesso e volentieri se non sempre sono legati agli anime che è un prodotto fruibile perché tu vai su Netflix su Amazon Prime te li guardi te li vedi tranquillamente senza spendere chissà quanti soldi e questo secondo me è una forza in più nel senso che quando vedi un bell'anime ti viene anche la voglia di andare in fumetteria a comprarti il fumetto correlato a quello che hai appena visto cioè i giovani lo fanno spesso secondo me questa cosa la fanno spesso Bonelli su questo non si è mai impegnato assolutamente cioè è uscito non so 40-30 anni fa un film su Tex che era una cosa orribile quello su Dylan Dog non ne parliamo perché non c'è non era neanche Dylan Dog non si capiva che cos'era e ci si avvicinava più della morte dell'amore a Dylan Dog che non parlava di Dylan Dog quello era un gran film vabbè dopo non stiamo più a parlare secondo me e adesso non so adesso esce da ma da quello che ho visto anche dagli attori non è che mi pare una gran cosa quindi ecco secondo me dovrebbero di più anche oltre a tutte le cose che ci siamo detti fino ad ora anche guardare questo aspetto sembra che ci sia un po' di di arroganza in questo io sono un Bonelli proprio cioè per me è religione però quando c'è da criticare lo faccio volentieri c'è un po' di arroganza in questo senso come dire vabbè noi abbiamo la nostra fumetteria abbiamo i nostri fumetti se va bene così ok altrimenti non stiamo ad allinearci troppo e Bonelli non ha mai assolutamente in tv anche quando c'era la vecchia Rai cioè non vedevi mai nulla c'era una cosa assolutamente impossibile vedere uno zagora cartone animati è sempre stata molto molto chiusa in questo senso secondo me questo è qualcosa che conta io volevo aggiungere comunque sì Bonelli è vero che non ha fatto un granché di queste cose però penso al commissario Ricciardi che hanno fatto ultimamente una fiction comunque un personaggio nuovo o sbaglio commissario Ricciardi alla fine però è sempre Bonelli insomma poi comunque loro avevano in cantiere il film di Dampir la serie tv di Dylan Dogg che purtroppo è stata stoppata dal problema covid quindi diciamo che qualcosina in cantiere loro ce l'hanno poi tra l'altro ho scoperto dopo anni e non lo sapevo l'ho scoperto ieri durante una mia live che me l'ha detto un utente insomma che su Rai Play c'è una serie una serie animata su Martin Mysterio io non lo sapevo l'ho vista ma è bruttissimo lascia perdere non è neanche Martin Mysterio questa qua è una cosa proprio nuova cioè Martin Mysterio guarda penso che sia uno dei personaggi che la Bonelli ha più bistrattato della sua storia cioè la la veramente secondo me io ero un lettore di Martin Mysterio nei primi anni 90 perché i fumetti da cui ho cominciato io che sono la mia generazione 40 anni più o meno quindi quelli nati tra il 75 e l'80 diciamo all'epoca comunque infatti si era fatto anche il crossover se ne avevano fatti due mi pare che Martin Mysterio Dylan Dog che io avevo collezionato i fumetti che si leggeva erano quelli se leggevi Dylan Dog molto probabilmente leggevi anche Martin Mysterio non dico per forza assiduamente ma comunque lo compravi poi è arrivato Nathan Never questi erano i fumetti cioè la mia generazione si è approcciata alla Bonelli con Martin Mysterio Dylan Dog Nathan Never piuttosto che Zagorotex Zagorotex erano fumetti che già esistevano che appunto tu man mano poi hai riscoperto cioè poi chiaramente io dico quella che secondo me era la linea generale dei tempi di chi ha cominciato a fine anni 80 e inizio anni 90 poi ci sarà stato anche qualche ragazzino che ha iniziato da Zagor però la linea generale parlando di me e dei miei amici chi è iniziato nell'86 87 88 90 era iniziare dai vari Dylan Dog Martin Mysterio poi è arrivato Nathan Never per poi andare a ritroso poi chiaramente io parlo di una percentuale del 60 70% poi ripeto ci sarà stato qualcuno che ha iniziato da Tex qualcuno da Zagor però questo però ricollegandomi al discorso che faceva Massi Martin Mysterio è stato un fumetto veramente secondo me molto bistrattato dalla Bonelli oltre Morgan Lost mi viene da aggiungere Morgan Lost è un altro fumetto che secondo me hanno ucciso con le varie prima serie stop seconda serie stop poi il cambio di formato nella cos'era nella graphic novel che hanno fatto quella in formato più poi adesso è di nuovo fermo c'è un altro fumetto che io ho visto molto bistrattato dalla Bonelli un'altra cosa ricollegandomi sempre al discorso al discorso di Massi che faceva giustamente sulla presunta arroganza della Bonelli ma io più che arroganza la chiamerei passatemi il termine non voglio che nessuno se la prenda la Bonelli soprattutto e nessun lettore Bonelli perché io sono di questi albi qua il 90% sono Bonelli la chiamo una certa chiusura mentale no sono rimasti ancorati ad anni anni fa però mi viene anche da dire che la Bonelli negli anni 90 o primi anni 2000 ha cercato di fare delle cose a termine mi vengono in mente dei fumetti tipo Brad Barron tipo Magico Vento Orfani era bellissimo Orfani ha fatto delle serie che erano destinate a finire Brad Barron era una bellissima serie secondo me però oggi come oggi quello che io noto cioè io ne conto almeno tra la tra gli anni 90 primi 2000 aveva fatto nascere ah poi c'era Greystorm ad esempio c'era Brandon pure Brandon cioè aveva cominciato questo discorso ma l'ha finito perché non fa nascere più personaggi nuovi destinati a chiudersi in un ciclo di 10 15 20 numeri cioè apporterebbe qualcosa di nuovo e magari quella sarebbe l'occasione per poter sperimentare su queste serie visto e considerato che non dovrai investirci per i prossimi 100 o 200 anni una serie di 8 10 12 20 numeri ti consentirebbe di poter cambiare l'impostazione grafica di poter proporre disegni nuovi argomentazioni nuove proporre magari un personaggio che non deve combattere con i soliti villain chiamiamoli così e dove ne esce sempre vincitore ma magari un personaggio che è totalmente cattivo per esempio no cioè delle serie a fine a termine dici tanto io oramai ho investito sulla serie posso provare a sperimentare su queste serie per vedere come vanno e poi trarne delle conclusioni per le serie quelle più consolidate io non la vedo più farie i vari Brad Barron Magico Vento Legs Weaver e via dicendo non nascono più cosa fa la Bonelli oggi ti propone allora vendo Tex e ti fa 10 pubblicazioni di Tex ti fa Tex Wheeler il Texone il Maxi Tex e via dicendo vendo Dylan Dog Colorfest Dylan Dog il Boy l'hanno rifatto e sta avendo successo cioè sta investendo solo sulle serie che è sicura di vendere e aumenta collane su quei titoli non ne propone di nuovi ecco ditemi la vostra secondo me secondo me è una questione di rischi pure perché secondo me loro comunque come hai detto tu anche nell'inizio degli anni 2000 a fine anni 90 sono uscite delle miniserie però poi magari vedendo le vendite secondo me molte volte forse si sono un po' scoraggiati quindi secondo me è anche la questione rischio perché loro sì vorrebbero rischiare perché comunque hanno un parco di sceneggiatori e disegnatori assurdo perché si sa che la Bonelli è pienissima perché veramente non ha difficoltà quindi potrebbe fare quello che vuole però secondo me è una questione anche del saper rischiare del voler rischiare soprattutto quindi loro certe volte vanno verso un come dire un ritorno che sanno che arriverà perché Tex vende Dylan Dog secondo me vende pure anche Dylan Dog Zagor non lo so ma comunque alla fine siamo lì cioè loro si tengono sulle colonne portanti o sbaglio io credo scusa no vai 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 Andrea però poi lascio veramente parlare di voi questo perché è successo è successo perché ha proposto delle miniserie interessanti 20-30 anni fa magari anche non così tanto ma fondamentalmente non ha mai cambiato la formula quindi il classico lettore Bonelli ha trovato interessante Brad Baron Magico Vento poi non lo so se c'era mi pare pure c'era Gregory Hunter che era forse della Bonelli quindi tutti i fumetti belli ma per il lettore Bonelli perché alla fine la formula era sempre quella mentre questa cosa appunto collegandomi al discorso manga non succede si cambia formula e quello secondo me quando tu non vendi Greystorm che aveva una decina di numeri in tutto e poi si concludeva ma il lettore di Greystorm fondamentalmente era lo stesso lettore che ti leggeva Martin Mister piuttosto che Dylan Dog o Zagor quindi lo trovava bello ma sempre perché era un lettore Bonelli uno che ti legge altri fumetti una collana come Greystorm piuttosto che Brad Baron te la snobba perché non si avvicina proprio sì non ci sono elementi veramente di novità io guardate non sono un lettore ferro di manga rimango sempre sullo stesso perché è inutile che porto qua esempio manga che leggevo 30 anni fa che porto che ne so quei manga da bambini che leggevo che non avrebbe nessun senso ma questo è un manga che possono leggere gli adulti a delle tavole assolutamente scusate sempre al contrario come prima a delle tavole assolutamente belle splatter per esempio per il lettore horror ora mostro qualcosa giusto per ma poi la trama è veramente bella guardate che roba capite che è un oggettino poi c'è la sovracopertina c'è una differenza enorme c'è tanta differenza guardate c'è la sovracopertina che si toglie si apre e hai una specie di poster no bella comunque se posso dire una cosa ma non tutti i manga comunque sono sovracopertina Sergio Bonnelli ci sta provando ci sta provando in fumetteria in fumetteria con la serie di senza anima ma c'è anche quell'altra che adesso non ricordo il nome quella sui samurai cartonato gigante fantastico con dei disegni bestiali crudelissimo perché quasi alla Tarantino adesso però non ricordo come si chiama scusatemi ma chi aspetta mi sono perso un passaggio chi Labonelli si 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 chiama shambara shangara cose del genere shambara shambara che significa duello con le spade insomma veramente quello ci avvicina molto al manga anche perché i personaggi poi cioè non c'è un personaggio chiave sono tanti e quindi insomma anche le storie non si non ruotano sempre sul sai sul tex sullo zagor e quella quella è una bella bella bellissima operazione è in bianco e nero però sembra quasi a colori perché i disegni spesso e volentieri sono sfumati quella è una bella operazione vi invito ad andarla a vedere perché è molto molto interessante quindi qualcosa sta facendo però sempre molto sì il confine esatto esatto bellissima il confine quindi qualcosa sta facendo Bonelli devo dire il problema è che il cliente Bonelli tra virgolette cliente è quello che va in edicola va in edicola e quindi loro poi magari alla fine sono anche tentati di frenare un po' queste cose ma dei tentativi ci sono e sono anche belli e riusciti perché poi quando Bonelli chi lavora per Bonelli chiaramente diciamocelo chiaro e gente con i ci può dire che non è tranquillamente è ovvio è ovvio io credo se me lo consentite credo che almeno non vorrei risultare rispettoso per carità ma io penso che la Bonelli non sappia bene che cosa farsene dei suoi fumetti da edicola nel senso che sono in una situazione potremmo dire stagnante da una parte ci sono i vecchi lettori che rifiutano i cambiamenti dall'altra ci sono i nuovi lettori che mai e poi mai si approccierebbero a queste testate e quindi automaticamente è costretta a tenerle lì sul solito andazzo mentre invece come diceva giustamente Massi in fumetteria io vedo delle sperimentazioni il confine ma anche attica alcune miniserie innovative Mr. No Revolution per esempio mai cartonati dei bastardi di Pizzo Falcone del commissario Ricciardi insomma sono comunque delle iniziative che secondo me a lungo andare forniranno sopravvivenza alla casa editrice io credo che se mai se mai la Bonelli dovesse arrivare a cent'anni di vita io credo che ci arriverà con le serie da fumetteria piuttosto che con quelle da edicola credo si dicevo tra vent'anni è possibile è una cosa molto fattiva però Andrea secondo me sai quale potrebbe essere il problema il lettore fisso che legge Texi il lettore fisso che legge Zago si avvicina a queste idee che appunto tu hai accennato secondo me è difficile no però quella è una specie in via d'estinzione mentre invece in fumetteria comunque c'è una specie abbastanza nuova per cui secondo me ci sono quelli come me che ho 54 anni che in fumetteria ci vanno incuriositi quasi come come fossi rimasto bambino perché ho ho proprio voglia di cose nuove e in edicola non è che si trovi tanto quindi insomma la fumetteria è un bel è un bel è un bel paradiso anche per questi old boy come me assolutamente assolutamente c'è anche a dire una cosa che adesso due piccole mazzate teoricamente per la Bonelli potrebbero essere appunto Samuel Stern che ancora costa 3,50 euro e che è un bel fumetto comunque a mio parere niente di innovativo perché semplicemente ha mutuato gli elementi sì gli elementi principali di Dylan Dogeli è anche qualcosa di outcast e ne ha fatto un fumetto su quel calco lì però è un fumetto comunque abbastanza valido e cosa non trascurabile costa quasi un euro in meno rispetto a un Bonelli scusa mi serve però una cosa la Bugs Comics fa soltanto Samuel Stern questo è un fattore molto molto importante a livello economico è un po' come la storina con Diabolico appunto e si può permettere di avere Diabolico ancora a 2,80 euro considerando che Diabolico è un albetto così quindi alla fine costi di produzione secondo me non è che sono tantissime vabbè no la Bugs ha in catalogo altri titoli come Mostri o Moftri Mostri ha fatto 10 volumi ora non ce l'ho qua erano dei in formato tipo a 4 cartonato costava 9,90 erano delle mini storie horror molto molto belle che si rifacevano alla testata che usciva nei primi anni 90 mi pare per la Acme Edizioni io ne ho 4-5 numeri in tutto di Mostri peccato che non l'abbia continuata però anche lì bisogna capire che 9,90 euro per ogni volume per un fumetto puramente splatter con delle mini storie all'interno forse forse non va così bene e poi hanno fatto uscire appunto Samuel Stern hanno visto che ha ingranato bene hanno lasciato un attimo da parte a maggio faranno uscire i racconti dal Derryland è una raccolta insomma di alcune delle storie di Mostri più una storia inedita di Angus Derryland per chi legge Samuel Stern sa di chi sto parlando la Bugs comunque Samuel Stern secondo me è stata una manna dal cielo per loro perché comunque una piccola casa editrice che sta andando bene cioè comunque Samuel Stern secondo me sta benedendo per come la vedo io è tra tutti i personaggi da Edicola quindi riguardanti Labonelli e non è quello che meglio racconta la contemporaneità perché comunque Dylan Dogg sì è un personaggio contemporaneo quindi di conseguenza è sempre costretto ad evolversi a differenza di Tex o di Zagor che sono cristallizzati in un certo determinato periodo storico però comunque Dylan Dogg è nato nell'86 è un personaggio che fondamentalmente rappresenta quella sorta di società quella sorta di realtà tipicamente fine anni 80 inizio anni 90 l'unico che per come la vedo io racconta in maniera abbastanza precisa certi elementi della società moderna o contemporanea è Samuel Stern per cui ha quello come punto di forza racconta bene la realtà sì e poi tra l'altro bisogna dire che secondo me ultimamente si è evoluta e quindi si capisce dove sta andando è molto introspettivo come horror è molto psicologico come horror non ha niente che vedere con Dylan Dog che si basa molto di più sull'horror classico quello dal venerdì 13 al Nightmare insomma oppure dai racconti di Poe Lovecraft invece Samuel Stern mi ricorda molto di più il fumetto horror americano non so mi ricorda molto Sandman queste cose qua molto psicologiche molto introspettive molto oniriche secondo me è qualcosa che si sta sviluppando molto molto bene e può diventare davvero una novità a me ricorda anche alcuni alcuni film dell'orrore orientali o comunque giapponesi cinesi di inizio anni 90 in poi che è un genere anche quello molto psicologico con quelle ambientazioni urbane addirittura casalinghe potremmo dire che sono molto più contemporanee dell'horror proposto da Dylan Dog sì è vero sì poi la differenza principale che magari sto dicendo una cavolata Dylan Dog è più incentrato sulla personalità di Dylan Dog e sui casi che deve risolvere Dylan Dog Samuel Stern è quasi non dico messo in secondo piano la storia di Samuel Stern il background di Samuel Stern però sono messi in primo piano i demoni delle persone che deve esorcizzare assieme a quello che diceva Massi è introspettivo ma non introspettivo verso il protagonista che è Samuel Stern è introspettivo verso i personaggi che si presentano di albo in albo ognuno con un problema diverso ognuno con un trauma diverso una crepa nell'animo diverso quindi Samuel Stern in ogni caso anche se a me non sempre piace è questa cosa che ancora non si conosce bene chi sia Samuel Stern io l'ho rimarcato in qualche recensione anche io e non mi piace tanto questo aspetto non mi piace tanto l'ammetto però c'è da ammettere che rispetto ai bonelli che sono tutti un po' così attenzione perché Zagor è così Tex è così Dylan Dog è così Nathan Never è così sono tutti un po' così sono tutti un po' più incentrati sul sul personaggio cardine piuttosto che sui personaggi che appaiono cioè sui come posso chiamarli sui vari comprimari che appaiono di albo in albo sono alla fine la bonelli si concentra più sull'eroe che piuttosto che che sul però dipende anche secondo me dipende anche dalle storie per esempio l'ultimo Dampir che è comunque un bonelli penso che l'abbiate letto vabbè non voglio spollenare c'è qualcuno che magari non l'ha ancora letto però l'ultimo Dampir ma si devono si devono muovere perché tra una settimana esce il nuovo dillo pure dillo vabbè comunque l'ultimo Dampir è incentrato sì ovviamente su Arlan Dracca ma in modo un po' più marginale cioè nel senso che ci sono tanti comprimari personaggi ma anche lo stesso l'ultimo Dilan pure vendetta in maschera che comunque a me è piaciuto cioè alla fine ovviamente non possono perseguire una sola strada nel senso non possono concentrarsi concentrarsi soltanto sul personaggio ma devono necessariamente andare sui personaggi che appaiono di volta in volta nelle storie insomma quindi è un qualcosa che bisogna anche variare secondo me Dalla Bonelli forse l'unico albo che non è solo incentrato su un protagonista è Dragonero perché di Dragonero ci sono molte uscite che parla di Gbor molte uscite che parla di Milva molte uscite che parla di Albert quindi secondo me questo è anche intelligente per far uscire sempre storie nuove sì certo Dragonero è un bel incentivo per la Bonelli secondo me anche proprio per sperimentare perché dentro ci sono dei disegnatori veramente nuovi diversi da tutto quello che e comunque Massimiliano si sa che Dragonero avrà una fine almeno così dicono Sergio Vietti e Luca e questo è importante perché arrivare a 700 facciamo esempio di Dragonero secondo me sarebbe un errore madornale ma un finale degno ci sta assolutamente approcciandomi a Dragonero se posso dire insomma una mia opinione per come la vedo io parlando anche del discorso diciamo il punto iniziale appunto il confronto fra i manga e i bonelli del perché i giovani o comunque i lettori di manga non si approcciano ai fumetti bonelli io penso che i manga in linea di massima siano letti in larga parte dai giovani per come la vedo io la bonelli propone già in partenza degli argomenti delle tematiche e se vogliamo anche dei personaggi che non sono molto attraenti per quanto riguarda i giovani Tex Zagor il western ormai non li conosce nessuno mi piace il western però ormai il western lo stesso Dylan Dog comunque si propone delle tematiche che non so quanto possano affascinare i giovani poi c'è Giulia che è l'unico fumetto bonelli al femminile ma io non so quanto una ragazza abbastanza giovane possa farsi attrarre da scusate l'elicottero che sta passando stiamo cercando qualche presidente occhio che ti abiti in mansarda se cade il primo sei tu e dicevo comunque Giulia è l'unico personaggio femminile della Bonelli ma non so quanto una ragazza una ragazza giovane una ragazzina possa farsi attrarre da tematiche comunque molto adulte che sono quelle esposte da Giulia l'unico fumetto giovanile della Bonelli è Dragonero che secondo me non a caso è stato pensato concepito con una grafica così giovane come diceva Domenico con uno stile di disegno così attraente per quanto riguarda i giovani quindi secondo me c'è anche questo punto i giovani probabilmente se anche Rabonelli in qualche modo rendesse più attraenti dal punto di vista grafico i propri fumetti non si approccierebbero perché non ci sono delle tematiche per loro interessanti sono mediamente fumetti per come la vedo io più per un pubblico adulto credo che va sottigliandosi perché comunque facendo facendo un ragionamento poi voglio farti proprio una domenica ma non non perché io sono sono il condotto mi era venuta in mente una cosa da chiedere a Domenico però volevo fare questa cosa che ci stavo pensando ieri sera quando era a letto mi stavo chiedendo questa cosa qua ma Labonelli per come la vedo io poi mi sbaglio poi lascio la palla a voi cioè secondo me perde dieci lettori ma ne guadagna due cioè il lettore di Zagor e di Tex piano piano si stanno assottigliando anche di Landog oramai ha 40 anni no cioè quanto c'ha 35 anni più o meno ok questo è un pubblico che secondo me va assottigliandosi nel senso io non dico che queste testate non guadagnino lettori ma Martin Mister Martin Mister c'ha 40 anni di Landog ne ha 35 Nathan Never ne ha 30 Tex ne ha 70 70 una settantina Zagor ne ha una sessantina i lettori chiaramente chi lascia un giorno qualcuno morirà anche perché se qualcuno è iniziato a 20 anni Tex magari sarà anche già morto o magari non lo legge più no cioè se ne va a letto alle 9 dopo aver visto il telegiornale è questo che mi chiedo io proprio in base al discorso che facevi tu Andrea essendo un pubblico un po' chiuso in se stesso per adulti questi adulti stanno diventando sempre più adulti e quindi e quindi plausibilmente lasceranno a un certo punto o perché scompariranno proprio o perché comunque a 85 anni non leggi ancora Zagor o Tex no o magari può succedere ma non è la prassi quindi per come la vedo io si va sottigliando la diciamo l'utenza della Bonelli ma non è non è un malaugurio che gli faccio ci mancherebbe perché io sono cresciuto con Bonelli e gli voglio bene però è un ragionamento che ci pensavo in questi giorni e ieri sera è inevitabile che se non si trova qualcosa di nuovo il pubblico in base a quello che ho appena detto della Bonelli andrà sottigliandosi cioè Massimiliano io che ora abbiamo più o meno io quasi 44 anni lui ne ha 50 e passa tra 20 anni magari 30 anni già adesso già adesso leggere addirittura fare recensioni tra bimbi cose è difficile ma cioè io a 60 anni 70 magari 60 no ma a 70 anni 80 anni non so se ancora comprerò l'All Boy il Dilan Dog ammesso che ci siano quindi è un'utenza che si va restringendo contro un'utenza che a mio avviso non va a compensare questa questa perdita cioè non ne perdi 10 e ne guadagni 10 o addirittura come in passato ne perdevi 10 e ne guadagnavi 15 e quindi incrementavi quindi è questo che voglio chiedervi come vedete il futuro della Bonelli in questo senso che vi ho detto io e poi volevo chiedere questa è la prima domanda volevo chiedere a Domenico se attualmente come mi pare di aver capito legge dei manga e può portarci qua ad esempio dei manga veramente validi per adulti che lui trova magari meglio addirittura di alcuni Bonelli che lui legge queste sono le cose che volevo portare adesso sul piatto poi tra poco finiamo perché sono già quasi 45 minuti e la gente poi si scogliona giustamente allora per quanto riguarda la seconda domanda io qua ho portazione in macchina quindi mi sono attrezzato nella maniera più più veloce possibile per quanto riguarda il manga che sto leggendo in pratica è questo come vi ho fatto vedere prima e si chiama Kingdom in pratica è la guerra dei 500 anni che è avvenuta in Cina quindi parliamo di un manga storico da un certo punto di vista sono 80 uscite al costo di 6,90 euro sono tantissime però secondo me è un manga che vale veramente tanto se io metto questo qui con questo qui non me ne voglia Zagor non me ne voglia Tex ma non c'è nessun tipo di paragone io sono convinto che alla fine il problema è che il giovane non entra in edicola secondo me se vai a domandare a 10 ragazzi dai 15 ai 20 anni ma lo sapete che in edicola vendono fumetti ma lo sapete che in edicola c'è Tex c'è Zagor c'è Giulia lo sai che loro cosa mi rispondono di che stai parlando perché non conoscono nessun tipo di personaggio io vi faccio un esempio io sono andato a Roma qualche anno fa ad una fumetteria famosa non voglio fare assolutamente pubblicità sono entrato dentro e mi sono messo ho pensato di essere un ragazzo di 15-18 anni 20 anni ho visto davanti a me uno scaffale un muro pieno pieno zeppo di manga tutti con i vari genere genere Sainem in genere Sainem battle Sainem per ragazzi per adulti avevo davanti agli occhi un panorama bellissimo una cosa stupenda e ragazzi di questa cosa qua secondo me si innamora se tu vai in edicola queste cose non ci stanno vedi i soliti albetti e neanche ci fai caso il problema secondo me è questo che il giovane non sa che in edicola ci sono i fumetti ma va in fumetteria perché ci sono i manga perché vede gli anime i vecchi cartoni animati addirittura alcune casse editoriali stanno mettendo stanno rinnovando alcuni vecchi cartoni animati Devilman chi di voi vedeva Devilman? tutti quanti Gigi la trottola vi faccio un esempio ma ce ne sono tanti One Piece chi è che non conosce One Piece? c'è signori qua parliamo di una cosa a parte secondo me la Bonelli con tutto il bene che li voglio anch'io nonostante non è da tanto tempo che lo leggo non avrà vita non avrà vita lunga per me poi ripeto il manga il manga che ho preso io questo qua Killing Morph per chi gli piace l'horror come Ali che è soprattutto appassionato di horror recuperatelo perché assolutamente ma ora l'ho messo dritto recuperatelo se vi piace l'horror io leggendolo ho detto ho sentito come un alone di freschezza uno stile di scrittura veloce rapido una griglia totalmente diversa dai soliti Bonelli di che appena troviamo qualcosa di diverso ci meravigliamo qua la griglia ragazzi cioè e parli di tre anni fa tre quattro anni fa se vedi adesso ne trovi a decine e decine centinaia di altre di altre trame come quelle appunto poi voglio far vedere un'altra cosa questo qua si chiama The Promise Neverland praticamente è finito con questo mese con il numero con il numero 20 non facciamoci ingannare dal visto di questa ragazza però guardate questo questa copertina cioè vi invoglia andare a leggerlo qua parla di ragazzini vi dico anche un attimino la trama che sono nati e cresciuti in un orfanotrofio crescevano mangiavano con una madre superiore che insomma li accudiva arrivate di una certità uscivano però venivano mangiati da dei demoni alla fine questa ragazza insieme ad altri bambini se ne accorgono dietro c'è una trama incredibile scappano trovano altri bambini cresciuti e scappati cioè queste cose qua la Bonelli non le farà mai secondo me perché ci sono ma perché non le fa perché la Bonelli secondo me è nata con l'idea che il bene vince sul male in maniera perenne come l'idea di un bambino che nasce che io voglio fare da grande qualcosa tipo cioè voglio fare da grande qualcosa per il bene questo secondo me la Sergio Bonelli sì però perché Bonelli non ha il coraggio come ha fatto di proporre sul penultimo Nathan Never di proporre un fumetto in stile manga di proporre dice facciamo un progetto di un manga di quattro numeri ma Bonelli noi stampiamo un manga e vediamo un pochino e cominciamo ad allargarci che posso dire due parole e poi mi taccio e non parlo più secondo me Bonelli non morirà perché Bonelli è troppo avviato e potente per morire però Bonelli secondo me si sta spostando nelle fumetterie perché ha capito che il fumetto si vende nelle fumetterie l'edicola non è più la casa del fumetto e lo sanno lo hanno capito perché stanno facendo delle operazioni guardate che Shambara è molto vicino al manga molto molto vicino anche come i disegni è l'ultimo non so se avete visto il penultimo Nathan Neville che disegni aveva sì i lettori Bonelliani si sono incavolati hanno detto che era uno scopo è questo il problema è questo il problema è quello della Bonelli lo vedo nelle fumettiche non lo troveremo ma tu è chi è il problema ma un'uscita del genere come diceva giustamente Andrea nella chiacchierata anche in altri suoi video se tu da un numero all'altro proponi un albo con disegni manga lo devi pubblicizzare in ogni dove perché se no perché se no rimaniamo al discorso che fa Domenico il ragazzo che manco ti entra in fumetteria come lo scopre quel numero di Nathan Never in stile manga come si fa ad avvicinare a Nathan Never magari se quel fumetto fosse stato pubblicizzato nel giusto modo un ragazzino l'avrebbe letto e si sarebbe avvicinato a Nathan Never magari con 30 anni magari con 30 anni di ritardo ma meglio tardi che mai invece quel numero rimarrà isolato per adesso nella storia di Nathan Never non conosciuto da nessuno criticato da tutti scusate il termine perché ne faccio parte anch'io i vecchiacci che leggono Bonelli perché è stata ammazzata a priori cosa hanno fatto l'hanno preso l'hanno preso hanno fatto così hanno detto porca troia che schifo così hanno fatto cioè non sono manco andati secondo me a vedere la validità della storia o ad apprezzare qualcosa di diverso questo succede succede soprattutto in Bonelli ma è chiaro quello che dicevo io l'utente medio della Bonelli è grande cioè è grande voglio dire quando io entro in fumetteria i ragazzini che sono lì anche se ho 43 anni mi danno del lei è ovvio e sono l'unico che ancora dico senti ma ce l'hai un fumetto tipo Bonelli tipo Dylan Dog tipo cosa cioè e quella cioè l'ultima volta la ragazza che poi mi ha dato questo famoso killing morph cioè guardavo i manga gli ho detto no guarda sto manga no ha le scritte troppo piccole non ce la faccio a leggere poi me ne ha dato un altro gli faccio no no ma no ma troppo per ragazzini alla fine alla fine mi fa ascolta ma io non riesco ad accontentarti a te poi dopo discorsi contro discorsi mi ha dato alla fine killing morph che mi ha contentato e io per sramatizzare faccio vedi che alla fine non ero io il problema fa no sei anche tu il problema mi ha detto perché io ho 11 decimi e i manga ti frego perché leggo tutto gli ho detto sì ma tu sei giovane io sono vecchio vedi e vedi torniamo al solito problema mettiamoci gli occhiali e facciamo questo sforzo dai ma se si sono perfino lamentati di quando è uscito zagor darkwood novel che secondo me è stata una novel bellissima ma veramente veramente bella e molti si sono lamentati perché non pensano che quel zagor non sia lo zagor originale invece per me è stata veramente una novel bellissima dal primo all'ultimo ma ne parlavo con Andrea se c'è gente che si lamenta che Piccinelli ha stravolto le classiche copertine zagor quando Piccinelli è il disegnatore attualmente più simile al disegno di Claudio Villa e si lamentano che le copertine non sono più classiche come una volta quando zagor è l'unico fumetto con tex che ha aumentato la qualità delle copertine semplicemente sono leggermente un po' più al passo coi tempi è logico che se tu leggevi zagor nel 1953 no ancora non c'era se lo leggevi nel 1965 non avevi uno zagor raffigurato così ma questo è chiaro ma come fai a lamentarti mi dico io come fai a dire una roba del genere significa a quel punto non di avere dei gusti ma di essere tarati perché il lettore quarantenne come me è un po' tarato sulla Bonelli però magari ha ancora quella voglia se è veramente appassionato di fumetti perché 40 anni 42 anni sei appena uscito dall'età diciamo sei un ragazzo adulto no ai giorni d'oggi diciamo quindi hai ancora non dico compatibilmente con i tuoi tempi con i tuoi impegni hai voglia di scovare quelle due o tre testate che siano manga piuttosto che altro che ti possano piacere proprio io ho voglia perché anche io mi stanco della Bonelli perché più o meno la pappa è sempre quella quindi ogni tanto per quanto possa trovare bello un albo di Giulia l'ultimo è bellissimo per dire l'ultimo di Dampier è bellissimo l'ultimo di Landog mi è piaciuto però è una cosa diversa avere voglia di novità il fatto che l'ultimo Dampier sia bellissimo o l'ultimo no Dampier infatti anche quello è un fumetto secondo me che la Bonelli non ha non ha saputo valorizzare valorizzare in giusto modo perché Dampier come qualità non è mai sceso cioè nel senso ovviamente ci sono i lettori che hanno iniziato nel 2000 che ti dicono che adesso Dampier è un po' peggio ma io vi posso assicurare che Dampier lo leggevo nel 2000 poi ho smesso per 19 anni l'ho ripreso nell'ultimo anno cioè Dampier è difficile che ti canni una storia e sono i disegni i disegni sono sempre belli le copertine sono sempre belle le storie sono sempre belle molto molto accurate ed è un po' la stessa infatti il Dampier lo definisco così in maniera maccheronesca il Martin Mister dell'horror cioè trovo affinità per non pubblicità e per ricercatezza dei temi per bontà delle storie e ricchezza dei contenuti trovo trovo che Dampier sia un po' Martin Mister sia stato un po' lasciato lì comunque comunque sì volevo dire una cosa sul discorso novità mi è venuta in mente ora anche quando uscì anni fa il primo numero di Dylan Dog Color Fest mi ricordo che fecero un casino enorme perché dissero questo non è Dylan Dog invece a me il Color Fest piace moltissimo forse è una delle mie preferite perché si sperimenta cioè se vedete l'ultimo Color Fest so che ha letto l'ho letto anche Andrea l'ho letto anche Sergio non so cioè i disegni la storia e i disegni sono una cosa incredibile cioè sul Dylan Dog Color Fest per esempio sì si sperimenta molto secondo me si sperimenta bene pure ma io questo lo sostengo da sempre dal numero uno io ce li ho tutti i Color Fest a me piacciono molto proprio perché sono cose diverse rispetto alla serie regolare si sperimenta un po' di più sempre restando comunque alla fine è sempre un fumetto Bonelli ok però nei disegni si sperimenta nelle storie pure è sempre un qualcosa di come dire di diverso quindi almeno su Dylan Dog hanno cercato comunque negli anni di fare qualcosa di cambiare un po' di fare qualcosa di alternativo ma è giusto io sono il primo io leggo Dylan Dog da tanti anni però mi piace anche leggere qualcosa di diverso cioè non è che devo leggere per forza sempre la solita storia cioè dopo un po' ti stanchi quindi riprendendo il discorso di Sergio per quanto riguardava appunto le novità che uno storce il naso ma questo non è Dylan Dog ma così non va leggi se ti piace lo compri altrimenti non lo comprare ma bisogna avere diverse sfaccettature noi che un personaggio sarà quello e quello deve essere per sempre come diceva anche Domenico sullo Zagor Darkwood Novels che io ho letto da poco e ho fatto uscire anche un video a me è piaciuta molto sarà perché sono un lettore nuovo che Zagor lo leggo da poco però a me Darkwood Novels è piaciuto è piaciuto molto quindi io volevo intervenire un attimo facendo prendendo un attimo le difese potremmo dire dei lettori di Nathan Never che si sono scandalizzati con il penultimo numero disegnato da Massimo dall'olio per come la vedo io e sarebbe un po' come è un po' come invitare Orietta Berti ad esibirsi ad un concerto heavy metal tu che Sergio sei un appassionato di heavy metal non so quanto questo quello che voglio dire è che per come la vedo io certe innovazioni le si dovrebbe sperimentare sugli speciali che sono fatti lì apposta non lo dice il termine appunto Alessandro parlava del color fest quindi tu hai uno speciale dove in teoria ti puoi permettere di fare di apportare delle sperimentazioni se tu vai a proporre uno stile del genere che è completamente diverso dal tipo di fumetto in questione è chiaro che il pubblico che segue quella determinata serie a fumetti rimarrà scontento oltretutto non l'hai neppure pubblicizzato quindi così lo butti così a sorpresa potremmo dire senza la dovuta presentazione quindi io credo che ci sia stata una sorta di errore da parte della Bonelli io ho apprezzato quel numero ma in qualche modo comprendo chi ne è rimasto scontento secondo me un'innovazione del genere la si doveva innanzitutto pubblicizzare di più come avevo già detto più volte e poi mettere in una testata adatta quindi uno speciale Nathan Never ha degli speciali ha lo speciale annuale ha alcune miniserie secondo me perché sennò veramente si rischia come stanno pubblicizzando le medaglie perché ho visto che comunque in tv basta la pubblicità della Bonelli loro diciamo che su quel lato lì stanno facendo un buon lavoro nel senso che le medaglie possano piacere o no comunque stanno dando un'impostazione nel senso stanno facendo più pubblicità in tv togli che la tv i giovani manco la vedono vabbè con questo è un altro discorso però comunque comunque in tv cioè fai pubblicità sto vedendo diverse storie su instagram che hanno coinvolto parecchi diciamo speaker giornalisti che fanno la pubblicità questa è la medaglietta non so se l'avete visto voi su instagram cioè comunque si stanno dando da fare però alla fine poi è sempre il consumatore chi con il raccoglitore che costa 10 euro secondo me non ha tanto senso il raccoglitore 10 euro è una cosa che non si può sentire veramente no io anche perché è quasi impossibile prenderle tutte le medaglie io non ce la faccio troppi soldi una mattina avevo fatto un video così ero in piedi mi riprendevo ho smadonnato per quel raccoglitore cioè che me lo dovevo pure pagare poi guardate l'ho tolto dal canale perché stava andando quel video stava un po' prendendo una brutta piega ma ha fatto 800 visite in 4 gio ma lo potevo tenere no perché poi era un fatto di visite ma proprio mi ero incazzato più ancora che per l'aumento per il fatto che alla fine mi dovevo comprare il raccoglitore dico ma porca ho detto ma porca puttana no sono 80 anni di Bonelli sono 35 anni che ti compro c'è gente che ti compra da 60 70 anni mi hai aumentato di 50 centesimi gli albi e due anni fa me li hai aumentati di altri 30 o 40 40 quindi in due anni abbiamo avuto un aumento di 90 centesimi no mi dai ste medaglie e tutto quanto alla fine non mi dici nemmeno boh ti do il prossimo numero ma anche solo avrebbe fatto più bella figura guarda invece che 4 e 40 lo paghi 5 euro e c'è il raccoglitore assieme magari lo facciamo a scaglione il raccoglitore un'uscita di un pezzo quella attraverso quella attraverso a montaggio tipo la Disney con Topolino secondo me la Bonneria ha voluto emulare la Disney con Topolino assolutamente Domenico io so che anche tu leggi Disney quindi le medaglie le trovavi credo e poi giuro che la smetto Topolino e la Disney in generale rispetto alla Bonelli è al contrario cioè Topolino è riservato prevalentemente ai bambini invece ultimamente secondo me è alzato parecchio il livello e anche i grandi anche i 30 anni non mi vergogna a dirlo leggo Topolino invece la Bonelli non ha non al contrario tutti i grandi e i ragazzi non si avvicinano a nessuno ma la strategia che Massi dove dimmi dimmi Massi dici dici bastava fare una cosa che secondo me intelligente ne facevi uscire una al mese e qualunque album compravi tu avevi la tua medaglia e le potevi raccogliere tutti perché chi legge solo Tex chi legge solo Dylan Dog non è che si può comprare tutta quella serie di roba per avere tutta la collezione di medaglie poi fai la medaglia di Mephisto ma per piacere ma veramente non ha senso chi conosce Mephisto chi non le chi conosce Mephisto se non leggi Tex tanto tempo Mephisto neanche lo conosce io non lo conosco non leggo Tex potevano fare quella di Block di Dylan Dog e non l'hanno fatta ma veramente questo è un insulto o di Yava ma questo comunque anche questo discorso ma non è per infierire la dice lunga sulla mentalità hai fatto una strategia di promozione delle medaglie in un melting pot di elementi che si sono andati tutti a contrastare tra loro allora nello stesso mese in cui hai pubblicizzato gli 80 anni hai voluto fare il festeggiamento con tanto di bollino su ogni albo che esce mamma mia fai la festa degli 80 anni metti le medaglie poi dopodiché fai l'aumento e fai comprare il raccoglitore ma la gente ti manda a fanculo perché sono menzate le bevande per fare la festa hanno messo la niente ma certo ma no allora chiariamoci perché se no mi querela ma non ti manda a fanculo perché non ti compro più perché ripeto qua c'è tutto il mio malloppo tolto Samuel Stern e Diabolic qua c'è tutto il mio malloppo che ogni mese compro di Bonelli quindi non è che ti manda a fanculo non ti compro più però la gente dice oh ma che cacchio stai facendo ma cosa stai facendo mi fai un editoriale ragazzi la Bonelli era nata da da lontano c'era il prozio il prozio che aveva la stamperia piccola nella cantina che poi è passata all'altro che ne ha preso le redini ancora facevamo gli albi li ritagliavamo con il coltello fai tutta questa bella storia poi alla fine alla fine no no poi dici vi verranno date queste medaglie che poi alla fine sono monete perché le medaglie me le vuoi mettere un gancetto io che voglio farmi un fai da te ancora devo capire come cavolo le devo sistemare queste medaglie perché o mi prendo il pongo e ce le metto tipo calco se no io che non ho il raccoglitore le medaglie rimangono nel cassetto e poi alla fine mi metti la postina purtroppo abbiamo dovuto fare un aumento in 50 centesimi ma 50 centesimi più gli altri 40 sono 90 centesimi cioè a questo punto ti nasce Walking Dead Color Edition che ti propone più o meno una griglia simile dei disegni al Dylan Dog Color Fest la gente dice 4,40 mi compro questo 4,90 mi compro questo con questo tipo di disegni è vero che sono meno pagine capite che c'è qualcosa cioè datevi una sveglia cioè datevi una sveglia cioè ragazzi a me piacciono tutti mi piace Dylan Dog Giulia mi piace moltissimo Dampier mi piace io non sto discutendo la qualità della Bonelli quello che io sto discutendo sono le strategie di mercato fate qualcosa per avvicinare i più giovani i giovani sono il futuro non dovete fare una strategia cercando di non far scappare i vecchi lettori voi dovete fare una strategia mirata per far avvicinare i giovani cioè quelli sono il vostro futuro perché piano piano come dicevo prima i vecchi muoiono si assottigliano le letture rimarrete in edicola perché finché venderete almeno qualche migliaio di numero di copie per ogni testata ci sarete in edicola però con quali costi con quali aumenti con quali altre novità arriveranno a 5 euro esatto allora io a quel punto lì piuttosto che comprarmi scusate senza nulla togliere il solito Zagor mi prendo collane tipo Kill in Morph 4 numeri 7 euro ad albo 7, 14, 21, 28 28 numeri mi sono fatto una storia 28 euro mi sono fatto una storia poi passa un altro ora è uscito un altro manga interessantissimo so che si chiama Noin scritto Neun che parla è ambientato nella nazista ci sono dei bambini che paiono avere il DNA di Hitler insomma una storia una storia una storia malata io credo che l'ordinerò perché una cosa del genere purtroppo lo devo dire Bonelli non me la dà cioè purtroppo purtroppo quello che voglio dire io è che Bonelli rimarrà top ancora per diverso tempo per copertinisti disegnatori però parliamoci chiaro compro D-Landog storie belle ne becco una su cinque storia a parte l'All Boy cosa a parte l'All Boy che propone sempre una qualità diciamo buona compro Dampier e devo dire che Dampier e Giulia sono forse le testate che offrono più qualità continuativamente compri cinque albi ne trovi uno o due un po' sotto tono ma tre sono belli tutti gli altri aggiungi Dragonero pure comunque Sergio perché Dragonero le storie sono molto molto belle lo so però Dragonero dovrebbero fare una cosa secondo me io volevo avvicinarmi a Dragonero però è impossibile dovrebbero ogni tanto fare dei reset ovvero tu lo fai andare avanti fai finire un ciclo e pubblici l'hanno fatto un ribelle e un reset e lo so però che numero sono ora al 18 ma questa del ribelle l'hanno prolungata un po' troppo secondo me a causa a causa covid perché non doveva essere così lunga infatti ci sono delle storie ma sì hanno detto che molto probabilmente la fine del ribelle sarà a metà del 2022 o fino al 2022 ma se io compro ma quello è il numero 30 allora ma questa è una domanda che faccio se io compro il numero 1 del ribelle senza aver mai letto Dragonero capisco allora Sergio devo dire la verità ci sono alcuni punti dove necessita avere un'idea di Dragonero assolutamente sì sono alcuni punti che infatti ho visto un video di Andrea dove appunto parlava che ha lasciato Dragonero purtroppo perché ha letto un albo e non ci ha capito una mazza ci sono alcuni altri e di queste cinque quanti sinceramente hai avuto facilità a leggere hai avuto difficoltà l'unico io ho iniziato dal numero 13 e ho continuato fino al numero 16 13 17 l'unico che mi è risultato abbastanza comprensibile era il 13 le figlie di Carnon o qualcosa del genere perché era una storia slegata e lì ho fatto un video sfogo ho fatto un video e lì ho fatto un video sfogo perché volevo una continuity perché così non voglio che si allunghi il brodo alla fine però quello è stato un numero per me comprensibile perché io non avevo mai letto niente del personaggio poi l'ho dovuto lasciare perché non sono nelle non ho la disponibilità economica di comprare un albo soltanto per i disegni che sono fantastici però la storia proprio mi risultava comprensibile io purtroppo vi devo salutare purtroppo mi dispiace stare qui ore e ore a parlare con voi però devo terminare questa devi andare a girare le bracione nel calderone no no altre cose da fare purtroppo va bene Massi grazie adesso però mi dite come faccio uscire perché se tocchi il telefono ti dovrebbe dare il passosso ci salutiamo tutti quanti che dite io direi che almeno quanto è che abbiamo fatto più di un'ora giusto un'ultima cosa di cui volevo parlare ma magari la prossima volta no no di che ti ascolto vai vai la domanda è io noi tutti recensiamo fumetti e diciamo tutti siamo in crescita chi più chi meno bene o male se la qualità c'è si cresce chi più velocemente chi meno però a volte io mi trovo in una difficoltà enorme in questo senso avendo un budget a disposizione che va dai 30 ai 50 euro al mese per i fumetti io mi chiedo ho recensito questo manga ha fatto 40 visite recensisco Zagor me ne fa 3-400 però la voglia di leggere dei fumetti totalmente diversi che appaghino di più quella che è la mia voglia attuale di scoprire qualcosa di nuovo sarebbe più onesto verso me stesso comprare dei fumetti io vado in fumetteria compro dei fumetti che mi piacciono però per la per la funzionalità e la longevità dei nostri canali soprattutto parlo del mio so già che se io non porto più Zagor Dylan Dog Dampire e via dicendo e porto solo manga che poi io vado a ricercare quei manga tipo questo super ricercati di nicchie vi dicendo mi chiedo se effettivamente io andrei avanti col canale perché il punto è questo sono quasi tentato ve lo dico non so se mai succederà di dire ma scusate io spendo 50 euro al mese in fumetti che fondamentalmente molte volte non mi soddisfano ho bisogno di cambiare aria ma se io cambio aria e porto questi titoli sul canale sono sicuro che già non faccio migliaia di visite sono sicuro che ne farei un terzo un quarto un quinto quindi è questa anche la mia difficoltà io ti faccio una controdomanda ma tu acquisti i fumetti soltanto per avere visualizzazioni sul canale o perché acquisti i fumetti perché hai voglia di leggere qualcosa di nuovo a questo punto avvicinandoti ai manga no no allora io i fumetti che porto sul canale ovvero Dylan Dog Samuel Stern Giulia Dampier sono fumetti che già leggevo soprattutto Dylan Dog Dylan Dog lo leggo da tutta la vita Samuel Stern l'ho cominciato dal numero uno e via dicendo quindi sono fumetti The Walking Dead l'ho preso perché io mi sono perso la serie in bianco e nero quindi io non compro fumetti per portare sul canale forse due fumetti potrei eliminare uno barra due che proprio non mi cioè dovessi eliminare qualcosa eliminerei forse Zagor che non mi dà grandi grandi soddisfazioni pur ritenendolo simpatico Zagor lo eliminerei però sul mio canale vedo che va quindi no io compro fumetti perché li leggo poi li recensisco per col canale eh sì quello del estimo però noto che appena vado un pochino fuori come sono andato con questo manga da io più o meno faccio tra le 100 le 300 visite per ogni video che posto vado a 30 visite 40 visite quindi mi chiedo ma se io un giorno mi rompo e dico taglio Zagor taglio Dampir taglio Giulia perché non perché non sono belli perché semplicemente voglio qualcosa di nuovo e porto e quel budget lo destino ad altre cose che destino avrebbe il mio canale questo è una questione di pubblico eh? è una questione di pubblico e come dicevamo prima orietta aperti vi metta è la stessa ragazzi che ne dite se tagliamo andiamo andiamo ci vediamo domenica prossima se il Covid vuole magari questo argomento lo svisceriamo sicuramente la seconda puntata potremmo concluderne che qualcuno potrebbe avvicinarsi piano piano al canale perché vede che tratti anche altro come qualcuno potrebbe allontanarsi e forse forse 0 a 0 palla al centro e si ricomincia dovresti un po' ricominciare ecco se tu vedi che gli iscritti calano in preca ad ogni iscritto che cala inizia a pestegnare i nonni e i disnonni no io non sono cioè io se a un certo punto arriverò al punto davvero di annoiarmi piuttosto guarda chiudo il canale e leggo quello che piace a me cioè il canale non è una cosa che fortunatamente ho altri interessi e cose da fare che il canale è una cosa a cui tengo molto se no non lo avrei aperto con cui ci metto tanto impegno però questo non può impedirmi di soddisfare la mia curiosità ecco se un giorno diventasse un freno a questo sarei disposto anche a chiudere il canale ma a leggere quello che mi piace veramente è giusto giusto vabbè giustissimo ragazzi dai bravo ciao a tutti ci vediamo alla prossima ciao ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao Grazie a tutti.